Mia madre si accorta con la mia sorella, hanno detto, la mia sorella ha fatto mamma piglia fuoco tutto, la mia mamma mi chiama tutta terrorizzata, scendi giù che piglia fuoco il capannone. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio. Attorno alle 19 di martedì sera si è alzata una densa colonna di fumo dalla zona del Giavardello. Numerose le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per domare il rogo. Le fiamme hanno interessato un capannone abbandonato dove all'interno c'erano delle attrezzature agricole. Si presume che sia un cortocircuito. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto con sette unità e tre mezzi hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'aria. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato e la polizia municipale di Arezzo.